La casa Pandora Vizi, tutti i mali del mondo ma porti proprio perché Pandora c'è tutti i doni che può offrire. Allietare, intrattenere ma anche far riflettere. Picasso inserisce una luce e anche una lanterna perché la speranza che l'uomo possa riscattarsi da questa situazione di brutalità permane sempre. Pagliados tra i suoi figli morti giace senza memoria guardando un cielo che ricorda. Lui firma queste opere che nascono e che nascono nelle strade. Tu leggi un libro per sapere amare.